Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo 43esimo episodio della nostra Master League con la Roma signori Allora, prima di partire il video, piccola informazione Sto registrando il video di seguito a quello di ieri Quindi non ho il tempo di leggere i commenti Quindi non so cosa mi avete scritto su SEMAU Ma poi li leggerò con calmo, come ogni volta E li recupererò piano piano nel video di venerdì Perché anche quello di mercoledì lo registrerò di seguito a questo Detto questo, signori, vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto che state dando a questa serie Sono veramente molto grato di questo, signori Vi ricordo di iscrivervi al canale perché abbiamo raggiunto l'obiettivo dei 2000 iscritti Ma dobbiamo andare sempre più su, signori A 2005 metto la webcam, signori Sì, così ci godiamo le partite della Master League insieme E vedete come sbrocco praticamente insieme Detto questo, non perdiamo altro tempo Partiamo con il video di oggi Quindi sì, non abbiamo nulla da fare, signori Perché il giocatore l'abbiamo comprato Abbiamo 19 punticini che però ci teniamo in saccoccia E niente, signori Scendiamo in campo Andiamo ad affrontare l'ultima partita del girone d'andata Io non mi ricordo se ho salvato, signori Quindi andiamo un attimino Nel dubbio, nel dubbio Non mi ricordo se ho salvato Salviamo Dovissimo perderci l'acquisto di SEMAU Signori, sarebbe una perdita di quelle che uno dice Ma, cazzarola E quindi Questa è una cosa che voi di solito Non vi faccio vedere i salvataggi Quindi vi ho fatto anche vedere i salvataggi Che avvengono fra un video e l'altro Detto questo, signori Prepariamoci Sappiamo già che il nostro avversario sarà in Manchester E non fa Basta Caricare Che cazzo l'hai caricato Ehi Ehi Com'è che adesso ha caricato la formazione, signori Ma che cazzo Ma che Va bene Va bene Ci sta bene Ha caricato la formazione da solo Questo gioco vive da solo Va bene Allora Valery Turam Esprimas no Esprimas è stato un piacere tenerlo lì Ma abbiamo un certo Che cazzo Aspetta Mi sono un attimino confuso Esprimas fuori per Jorni Perché qua Jorni Ok Jorni Cafu Jorga Allora Vorlanden Totti è espulso Quindi gioca Miranda lì Ehm Sono confuso Perché non mi aspettavo la formazione già pronta Jorni Cafu Miranda con Vorlanden Stoikavic Henri Esprimas e Bavangita No Henri fuori Esprimas fuori per Semau Mi fa troppo ridere, signori Scusatemi Ma mi fa troppo ridere Detto questo Ehm Va bene E Bavangita Semau Henri Stoikavic Vorlanden Miranda Cafu Jorni Turan Valerino Perfetto Scendiamo in campo Scendiamo in campo E cerchiamo di portarci a casa Tre punti Anche oggi Che sarebbero fondamentali Contro il Manchester Non mi ricordo in che posizione sono in classifica Ma ci hanno un signor attacco Con Cole e York Signori Chi se li ricorda Lo scrivi nei commenti La coppia d'attacco del Manchester Cole e York Tanta roba Tanta roba Di quelli Attenzione Vorlanden Recuperiamo subito un pallone Semau Se non ti dispiace Dovresti correre Grandissimo Semau Che finalmente ha capito come funziona il calcio Semau 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 Cafu Però torna sul pallone Cafu 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 Non riesce a crossarla Siamo ancora Un problema di tempistiche Stoicavici Stoicavici Che finalmente Si riprende No Mannaggia Vabbè che non ci sarebbe mai arrivato quel pallone Perché era tra due difensori Quindi Difficilmente sarebbe Silvestre Silvestre che aveva giocato nell'Inter Ai tempi Mi ricordo che era una pippa assurda Poi andò Al mancino Attenzione Stoicavici 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 Attenzione Attenzione Che questi sono pericolosi Ma noi abbiamo Un muro Semau Che cazzo non ci fa lì Semau Ah quindi Quella era bavancita Oh sono tutti e due dello stesso colore Quindi non 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 Sono tutti e due scuri di carnagione Colore forse non è bellissimo E sono tutti e due scuri di carnagione Quindi non Non li distingo più facilmente Grandi Cimoturam La spazza via Harry 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 Non riesce però a levarla di testa Ivanov Dove arriva? Attenzione Ancora il calcio d'angolo No 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 Vabbè Dai No Vabbè Ma Ma che cazzo lo dico l'hanno fatto Dai Ma stiamo scherzando Ma Ma è assurdo che gol ha fatto il Manchester Dai Ma Va bene Va bene Va bene Noi abbiamo un Semau in più Noi abbiamo un Semau che loro non hanno Noi abbiamo un Semau che loro non hanno E loro non lo sanno Lo sappiamo noi però che Semau abbiamo noi Però dai Bella l'incursione centrale Ma inutile Doveva tirarlo un poco più Doveva metterci un po' più di forza Doveva metterci un po' più di forza Semau Attenzione Semau Pallone per lui Manneggia 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 Semau che recupera il pallone però Grandissimo Semau 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 che la perde di nuovo Niente Non 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 Ancora gli manca qualche passaggio Semau Attenzione 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 Niente da fare in Manchester Al centrocampo Presta tantissimo Beckham Attenzione Beckham su quella fascia Ma noi abbiamo un certo Lilian Turam Che la copre bene Attenzione Vorlander Che copre bene il centrocampo Vorlander 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 Ma sul lato Stoicavic 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 Per Henry Che si gira Henry Avevo Semau Pronto lì Manneggia Non ho dato fiducia a Semau Non ho dato fiducia Attenzione A Babangita Ma fuori gioco De che Ma che Ma lo voglio rivedere Ma fuori gioco Ma dai Ma non era fuori gioco Ma nella vita Non era fuori gioco Ma nella vita Dai Attenzione Ancora Attenzione Jorni contro Beckham Jorni Attenzione Andate Serie di batti e ribatti No 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 Pensava fosse calcio d'angolo Pensava fosse sbattuta Sulla testa di Invece no Jorni Jorni Si allarga Jorni Che cerca Semau 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 per Miranda 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 per Stoicavic 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 Grandissimo il movimento di Stoicavic Che poi cerca Henry 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 No Errore mio Errore mio No doppio errore mio Mannaggia a me Cafu 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 Contro Giggs Cafu contro Giggs Cafu contro Giggs Riusciamo a recuperare il pallone Attenzione Cafu Che trova il Bambangita Che ha le praterie Babà 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 Chi è che si fa Vorlanden Vorlanden Che brutta palla per Jorni Jorni per Miranda Miranda Per Stoicavic Che vede Babangita Che gli viene allargata troppo il pallone Henry Henry Attenzione Stoicavic 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 Ma stiamo scherzando Ma non si può prendere un gol così Ah E' successa la stessa cosa che E' successa contro il Valencia Gol sbagliato nostro Gol loro Praticamente Ma porra Ma no Calma Stiamo perdendo un attimino La concentrazione Stiamo perdendo un attimino La concentrazione Dobbiamo quantomeno Riuscire a trovare il gol del 2 a 1 Prima della fine del primo tempo Signori Perché col Manchester Attenzione Semau 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 Grande così Lo trova lui il gol Non so perché capitano Semau è capitano signori Così di punto in bianco Semau Trova lui il gol 2 a 1 2 a 1 2 a 1 Va bene Va bene Accorciamo le distanze Dalla fine del primo tempo Forse Sperando che riusciamo a finirla così La partita Attenzione Grandissimo Miranda Su Neville Attenzione Becca La mette lì Attenzione 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 Ancora Semau Bravo Semau Sei svegliato Semau Allora Calma 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 Non possiamo Prendere altri gol Signori No Calcio d'angolo brutto Calcio d'angolo brutto Calcio d'angolo brutto Parte il traversone Pallone messo fuori Ma non ci siamo Non c'è nessuno Sulla ribattuta Loro riescono a crossarla di nuovo Noi buttiamo fuori Attenzione Bravissimo Arri Arri Che vede Semau Che può partire Nei minuti di recupero Fammela fare Fammela fare Fammela fare Fammela fare Che Semau è scatenato Semau è scatenato Ma scatenato Per che cosa Miranda 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 Cerca Arri 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 Ho provato a crearmi Lo spazio per tirare Non ci sono riuscito Ho provato a crearmi Lo spazio per tirare Non ci sono riuscito Mannaggia a me Signori Semau Primo gol in campionato Signori Alla seconda partita Ha trovato il gol Del 2 a 1 Che tiene viva la Roma Attenzione Il Bamba Il Bamba Il Bamba Il Bamba Grandissimo momento del Bamba Signori Grandissimo momento del Bamba Che poi ha cercato un gol Per spezzare un attimino Semau 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 Per sto i cavici Sto i cavici Sto i cavici Sto i cavici Dal nulla Il Bamba Troppo Troppo frettoloso Questo tiro del Bamba Gita è stato troppo frettoloso Avrei dovuto rifletterci un po' di più Avrei dovuto ragionarlo un po' di più Miranda Grande recupero di palla Per Arri 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 che avviate Bamba 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 Il Bamba Il Bamba Il Bamba Il Bamba Per Arri Il Bamba ancora Che cazzarola fanno Che cosa cazzarola hanno fatto Che cazzarola hanno fatto Mannaggia a voi E alle vostre sorelle Che in questo momento Staranno Facendo la spesa In qualche supermercato Non offendiamo a nessuno signori Non va mai offeso a nessuno Attenzione Sto i cavici Sto i cavici Sto i cavici Mannaggia a te Sto i cavici Mio Vorlander Recupera un gran pallone Vorlander Vorlander Per Cafu 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 Riesce a mandare il Bamba Riesce a mandare il Bamba Che manda Il passaggio per Arri Attenzione Cafu Ancora Serie di batti e ribatti Tutti inutili Perché non siamo riusciti Attenzione Attenzione ancora Cafu Che cerca il Bamba Il Bamba Il Bamba Mannaggia Cosa stiamo sbagliando Signori Cosa stiamo sbagliando Giggs ancora Il cross La palla arriva Sto i cavici Sto i cavici Sto i cavici Se ne va fra tre Sto i cavici Se ne va fra tre Sto i cavici Sto i cavici Cerca l'1-2 con il Bamba Cerca l'1-2 con il Bamba Che puoi trovarli Ma no 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 Di una miseria Ma no Ma no Ma no Ma no Cazzarola Che grande azione Che avevamo fatto Grandissimo Il recupero Di pallati Vali 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 Rival Vali Vali Stokovic per via centrale, Stokovic, 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 velocissimo con Harry, velocissima è una parolona, però l'1-2 con Harry era riuscito, peccato che Stokovic è lento come una lumaca, però era riuscito, l'1-2 era riuscito, il campo è quello delimitato dalle linee, il campo è quello delimitato dalle linee, ha capito come segnare ma non ha capito ancora bene come funziona una partita di calcio, attenzione, Babangita, 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 salvaci tu Bamba, Bamba salvaci tu, attenzione, Cafu, 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 che vede ancora Babangita, che riesce a crearsi lo spazio, il Bamba, il Bamba, il Bamba, il Bamba, strattonatissimo, niente, non riusciva a fare il cambio di direzione, non riusciva a fare il cambio di direzione perché eravamo non strattonati di più, York contro Cafu, York contro Cafu, York contro Cafu, mamma mia, Valeria era nel posto giusto, al momento giusto, attenzione, ancora Babangita, contropiede della Roma, contropiede della Roma al trentesimo, attenzione, il Manchester preso completamente in contropiede, Babangita, 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 riesce a rientrare, Babangita, Semau, Semau! Questo ancora non ha capito come ha delimitato un campo di calcio, ma trova un gol assurdo, come cazzo l'ha insegnato? No, volevo vedere come cazzo l'ha, no, non lo voglio salvare, torna indietro, come si torna indietro, mannaggia, mannaggia, niente, non so andare indietro, signori, volevo un attimo, ah, ecco, ho capito come si va indietro, come cazzo l'ho l'ha, d'esterno, signori, d'esterno, questo è immemorabile, la posta, è ingiampato, se non è ingiampato l'ha colpita per sbaglio, doppietta di Semau, signori, che salva la Roma, attenzione, ancora, Henri, 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 ha chiuso su tutte le sponde, ha cercato Stegavic, mannaggia, hanno recuperato un bel pallone, potevano fare un bel contropiede, grandissimo qui il recupero, Stegavic, ancora, Stegavic, che manda il Bamba, il Bamba, attenzione, attenzione, la Roma che la può, la può, la può, la può, attenzione, la Roma, la Roma, la Roma, la Roma, la Roma, era Babangida, perché dire la Roma, la Roma, ogni tanto mi faccio prendere, no, 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 vale, è rigrandissimo la chiusura su York, Jorni, che cerca Semau, sbagliato il passaggio, però Jorni, recupera il pallone, Miranda, 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 cercano, cercano, Semau, 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 si crea lo spazio, Semau, e se ne va, si crea lo spazio, e se ne va, dai che calcio d'angolo, dai che calcio d'angolo, calcio d'angolo, il 39esimo per la Roma, calcio d'angolo, la telelorenza per la Roma, Babangida, per Miranda, 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 che cerca Henri, che prova il tiro, attenzione, attenzione, ancora, ancora, attenzione, ancora, Miranda, Miranda, e non c'è nessuno sulla respinta, mannaggia, Stokavic, Stokavic, attenzione al contropiede del Manchester, attenzione al contropiede del Manchester, torniamo in difesa, signori, torniamo in difesa, Cafu, 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 a chiudere su Giggs, parte il traversone, attenzione, con calma, con calma, con calma ne usciamo, con calma il Manchester, ci vuole un miracolo, Babangida, 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 calcio d'angolo, fammelo battere, fammelo battere, fammelo battere, Babangida, Babangida, cerca Vorlanden, che riesce a girarsi, Vorlanden, 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 non c'è nessuno, e finisce qui, signori, 3 a 2, 3 a 2, il Manchester batte la Roma, 3 a 2, mannaggia di una miseria infame, 16 tiri a 7, che cosa ci siamo mangiati, e vabbè, mamma mia come sto rosicato, mamma mia, avrei preferito il pareggio, dai, il pareggio è il risultato giusto, Semau, 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 la partita in cui Semau ha fatto i suoi primi gol e la sua prima doppietta, l'abbiamo persa, 3 a 2 contro il Manchester United, e va bene, Vorlanden e Babangida per la doppietta di Semau, Scol, Scol e York, e vabbè, è stato un errore difensivo, ho sbagliato io a non tenere più palla, e loro ne hanno approfittato, come solo loro ne sanno approfittare, rimaniamo a 19 punti, e scendiamo, secondo posto in classifica, a 28, il Real Madrid ci supera di un punticino, siamo ancora lì, siamo ancora lì, ce la possiamo giocare, signori, Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i giocatori e per il supporto, noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento, signori, in cui rinizierà il girone di ritorno, quindi altre 15 partite belle toste da giocare assieme, signori, non è vero, sono 15, no? Sì, sono 15, sì, sono 15, va bene, signori, detto questo, ci vediamo qui sempre sul canale, Bella raga, ciao!